Sin da subito la Mennoce Associati segue sia la fase di progettazione sia la fase di direzione lavori quindi di costruzione e questa competenza è una competenza importante perché dà la conoscenza su particolari e dettagli che sono fondamentali nel campo dell'architettura e della costruzione in genere gestiamo anche e abbiamo gestito alcuni degli elementi e dei progetti che sono stati costruiti alcune realizzazioni questo ci dà una competenza nel mondo della gestione durante il ciclo vita il leader e pioniere in quest'ottica openbeam è certamente la graphisoft con il suo programma di beam autoring archicad si living è un progetto di casa multi comfort della san gobain che risulta essere stato realizzato in un'ottica di sostenibilità e anche nell'ambito del neuroly zero energy building e si basa su un sistema costruttivo brevettato dalla san gobain che è fondato sull'utilizzo di blocchi di legno di pioppo incastro a secco che possono essere realizzati quindi in modo molto veloce consentendo una progettazione che sia flessibile rapida in un'ottica comunque di sostenibilità il progetto è stato realizzato in beam building information modeling e analizzato energeticamente in bam building energy model e per far questo san gobain si è avvalso dell'esperienza della minuccia associati in collaborazione con graphisoft al fine di realizzare appunto un modello che fosse facile e veloce per tutti quanti professionisti della filiera si è partito innanzitutto dal prototipo sulla base del quale si è realizzato il modello e la sua ingegnerizzazione sono stati anche realizzati gli oggetti di libreria parametrici in beam e sono stati anche sviluppati gli aspetti e le componenti sia impiantistiche che tecnologiche al fine di evitare possibili errori e consentire un controllo di quelle che sono le regole costruttive già in fase di modellazione sono stati inoltre anche gestiti e controllati gli strumenti volti a determinare un controllo dei cosiddetti macro oggetti quindi le pareti le coperture i solai e questi strumenti consentono anche un controllo di quelli che sono le disposizioni delle componenti stesse le finiture le stratigrafie e nel contempo anche la disposizione alternata dei blocchi in legno di pioppo al fine di consentire un ammorsamento di tutti quanti gli elementi presenti nell'edificio. Quello che è importante sottolineare è anche il fatto che tutte quante le informazioni possono essere gestite all'interno del modello e possono essere interrogate sia da un punto di vista architettonico che strutturale che energetico nonché quantitativo e stimativo. Attraverso il progetto Xiliving è stato quindi possibile sviluppare un progetto che sia sostenibile, modulare e quindi anche estendibile nel corso del tempo e ha dimostrato nel contempo l'efficienza e l'efficacia del BIM dal momento che tutti quanti i professionisti hanno collaborato mediante un sistema di teamwork che ha determinato anche una gestione e un flusso di informazioni ottimizzato in un'ottica del processo BIM. Il vantaggio della Minnuccia Associati è proprio questo, quello di avere esperienza sul campo sia sotto il punto di vista costruttivo sia sotto il punto di vista di progettazione ma anche di manutenzione.